La Maremma Toscana, nota per le sue località turistiche e paesaggi da cartolina contrassegnati dalle tipiche dolci colline, ospita una manifestazione cinematografica che la proietta nella contemporaneità e nella sperimentazione linguistica del cortometraggio, con la seconda edizione del Saturnia Film Festival, che si tiene dal 31 luglio al 4 agosto tra Manciano, Montemerano e Saturnia, diretto dal regista premio Davide Donatello Alessandro Grande. È un evento giovane, un evento in cui abbiamo creduto da subito, proprio perché Antonella ha dato il massimo nel primo anno ed è stato importantissimo poterlo vivere nel nostro territorio. Porta il nome di Saturnia, che per noi è il brand più importante per quanto riguarda la parte turistico recettiva del nostro territorio stesso, un paesaggio meraviglioso, ambiente, natura, benessere. Si uniscono poi in quello che è un percorso culturale che con il cinema stesso sta arrivando piano piano e camminando verso una svolta. Saranno cinque giorni di buon cinema con proiezioni nei tipici borghi medievali ad ingresso gratuito, masterclass, degustazioni, mostre di pittura e fotografiche e sedici titoli di cortometraggi in concorso. L'anno scorso abbiamo avuto tre serate, quest'anno sono addirittura cinque e si sono aggiunte anche nuove location e nuovi sostenitori come la cantina del Morellino di Vignaioli di Scanzano, dove apriremo il festival con uno spettacolo di Bianca Nappi e un monologo di Alan Bennett. Poi continuiamo a Saturnia per l'apertura del festival in una serata particolare che si chiamerà aspettando il Saturnia Film Festival, dove faremo vedere un po' il meglio dell'edizione passata e ci sarà anche l'apertura della mostra fotografica, un omaggio a Mario Monicelli e il film La Grande Guerra. Sarà negli spazi del polo culturale Pietro Aldi e poi il giorno dopo, dal primo di agosto, ci sarà l'apertura del festival a Manciano e il 2 saremo in un'altra location importante nel comune di Semproniano, Rocchette di Fazio, Montemerano come la scorsa edizione e la conclusione a termine di Saturnia al Parco Piscine. Ci saranno anche tanti eventi collaterali, altre nuove mostre fotografiche, degustazioni, insomma tanti eventi collaterali in più. Quindi è anche un po' un festival diffuso in varie location? Assolutamente sì, è un festival diffuso e itinerante che è volto a promuovere l'eccellenza del territorio. Tra le iniziative in programma, la presentazione di un libro fotografico che recupera l'archivio privato di scatti di Mario Maffei sul film La Grande Guerra di Mario Monicelli, del quale l'autore delle foto è stato aiuto regista. Questa è una piccola pubblicazione che si nutre di materiale che Mario Maffei, che è stato l'aiuto regista di Monicelli per la Grande Guerra, ha realizzato durante le riprese del film. Per cui sono immagini inedite, sono immagini che hanno anche un valore forte perché oltre a essere stato sul set, per cui a raccontare quello che era il set anche fuori dalle riprese, si nota già in queste foto un grosso legame con Monicelli, affettivo, molto complice e anche con i personaggi della troupe, poi in caso particolare con gli attori protagonisti che sono Gasman e Alberto Sordi. Ai vincitori del Saturnia Film Festival una statuetta preziosa, la ninfa, simbolo della nascita delle acque realizzata dallo scultore e pittore Arnaldo Mazzanti, che si ispira alla stato in piazza Vittorio Veneto a Saturnia.